più volte mi hanno chiesto come portare avanti una startup da soli o se è necessario trovare dei co-founder e ancora più volte mi è stato chiesto come faccio a trovare dei co-founder adatti come faccio a trovare delle persone di cui mi fido che abbiano delle skill complementari alle mie con cui condividere questo viaggio lungo e importante bene questo è il topic del video di oggi quindi questo secondo episodio di da zero a uno sarà incentrato proprio su questo servono dei co-founder come possiamo fare a trovarli vi condivido non solo la mia esperienza di founder fallito come mi piace dire ma anche chiaramente quello che ho imparato lungo il mio percorso da persone che sono molto più esperte di me vi invito anche a lasciare opinioni nei commenti specie in video come questi in cui si parla di sicuramente argomenti dove ci sono delle linee guida ma poi moltissimo a che fare con le nostre opinioni la nostra personalità quindi prendete questo video per quel che è una serie di consigli da una persona che c'è passata ma che assolutamente sono discutibili partiamo dalla domanda principale cioè perché dovrei avere dei co-founder servono effettivamente oppure no di norma vi direi di sì nel 90 per cento dei casi penso che avere dei co-founder sia un vantaggio per la startup per l'azienda per vari motivi il primo quello più veniale se vogliamo è che gli investitori sono molto rassicurati dal fatto che ci sia più di una persona a lavorare un progetto è famosissima la politica di web combinator che non accelera non investe in startup che non hanno co-founder e la motivazione che loro danno è che se voi come founder originario non siete in grado di trovare almeno una persona da coinvolgere in maniera importante nel progetto da coinvolgere appunto come co-founder allora forse non siete abbastanza carismatici oppure la vostra idea non è abbastanza attrattiva e se non riuscite a trovare qualcuno che condivida con voi il 50 per cento delle share dell'azienda immaginate dover convincere un ingegnere informatico che sta prendendo 300 mila dollari l'anno a facebook ad unirsi a voi invece per un salario che magari sarà cinque volte di meno e per l'un per cento delle opzioni passando invece a i temi più pratici ma anche filosofici in un certo senso fare impresa ma ancora di più lanciare una startup è una delle cose più complicate che potrete fare nella vostra vita almeno nella maggior parte dei casi quindi avere qualcuno che vi supporti anche da un punto di vista emotivo durante questo percorso è molto importante e molto utile qualcuno con cui poter sfogare le vostre frustrazioni qualcuno con cui condividere le vostre emozioni le vostre vittorie sicuramente ci sono persone all'interno dell'azienda all'interno della vostra vita con cui poter fare questa cosa ma non è lo stesso che farlo con una persona che è con voi coinvolta allo stesso modo nel progetto quindi questo supporto ripeto può sembrare una cosa eterea ma è assolutamente impattante nella vita di tutti i giorni per ridurre il nostro stress per trovare qualcuno che magari ci aiuti a risollevarci di morale nel momento in cui le cose stanno andando male e viceversa essere noi quelli che un po' cercano di aiutare l'altra persona in momenti di difficoltà poi dovete riflettere sul fatto che i founder sono quasi sempre e dovrebbero essere le persone più coinvolte nella vita dell'azienda quelle che lavorano di più quelle che hanno un commitment maggiore e quindi anche quelle che hanno un impatto più grande in assoluto su quello che è poi il successo della vostra startup bene avere più di una persona che ha questo ruolo queste responsabilità questa spinta sicuramente può essere un grandissimo vantaggio se è la persona giusta che proprio come voi impegna 12 ore del proprio tempo a lavorare sull'idea e continua a riflettere su cosa fare per avere un impatto ancora più grande nel resto della propria giornata chiaramente mantenendo i limiti di quella che deve essere una vita sana ed equilibrata però quando si lancia una startup sappiamo che ci si dedica veramente anima e corpo se si vuole avere successo bene amplificare moltiplicare per due per tre questi questi effetti può essere veramente veramente importante ma allora quali sono gli aspetti negativi perché non ci sono startup di successo con 25 co-founder visto che sembrano tutti essere effetti che si moltiplicano bene il primo è quello dei conflitti chiaramente è molto più difficile mettere d'accordo 25 persone diverse piuttosto che non due o tre quindi sembra esserci un po' questo numero magico intorno ai tre co-founder poi ci sono aziende di successo che ne hanno due aziende di successo che ne hanno cinque e aziende fondate da un solo fondatore che poi è riuscito a portare avanti il progetto in maniera assolutamente di successo però di norma questi sembrano essere i numeri più comuni tra i due e i quattro ci sono alcuni studi che magari vi linko in descrizione anche sul successo delle startup in base al numero dei fondatori l'altro aspetto tornando sempre a qualcosa di più monetario veniale però nel momento in cui voi lanciate un progetto insieme di solito dividete le azioni della dell'azienda e quindi essere in 20 magari vuol dire avere un 5 per cento di startup a testa un investitore che partecipa in un seed round magari vuole avere dal 5 al 10 per cento di azioni proprio dell'azienda per giustificare il proprio investimento quindi voi vi ritrovereste già nel seed round con azionista di maggioranza dell'investitore chiaramente è una situazione un po complicata strana in cui non ci si vuole trovare nessuno in realtà né voi dell'investitore stesso perché se dovesse essere lui a gestire il business a questo punto farebbe qualcos'altro non farebbe il visino farebbe l'angel investor ma farebbe private equity magari quindi è una situazione complicata chiaramente questo è un esempio un po estremizzato esagerato però è buona norma che i founder cerchino di mantenere la maggioranza delle azioni all'interno dell'azienda per il più a lungo possibile è più a lungo possibile quindi avere già questa perdita di controllo in un certo senso per quanto limitata visto che poi chiaramente i voti si possono mettere insieme di vendere come strutturata il board da quali azioni hanno la priorità però diciamo questa questo setup è molto complicato per questo motivo adesso passiamo alla domanda più ricorrente cioè ho capito che mi servono dei co-founder 12 magari anche tre come faccio a trovare queste persone come faccio a capire chi è la persona giusta se avete seguito gli episodi precedenti se avete visto il video sul non sei pronto a fondare una startup sapete che condivido un po la filosofia di paul gram per cui il modo migliore per cominciare a fare startup è quello di immergervi in un argomento che vi appassiona diventare esperti di questo tema scavare in profondità e la situazione ideale è una in cui durante questo percorso di crescita di apprendimento o magari anche in percorsi simili precedenti durante l'università durante lavori precedenti avete trovato delle persone che vi sembrano essere dei candidati ideali quindi questo ritrovamento tra virgolette organico è sicuramente la cosa migliore perché perché avete avuto la possibilità di fare conoscenza di questa persona all'interno di un contesto diverso di non relazione co-founder co-founder quindi secondo me avete anche un'idea abbastanza chiara di com'è questa persona se riuscite a lavorarci insieme in maniera stabile anche se poi qui ci possono essere dei caveat che discuteremo dopo e riuscite più o meno a capire se il modo in cui lavorano le loro skill sono complementari alle vostre oppure no il fatto di conoscere già qualcuno avere già qualcuno in mente non vuol dire saltare tutte quante le tappe a più e pari dovete comunque prestare attenzione agli accordi che farete al modo in cui li fate magari ancora testare il modo in cui lavorate insieme invece quando si parla di dinamica tra co-founder che è molto diversa da una dinamica tra amici per esempio però secondo me può essere un buon modo anche solo per iniziare un pochettino il progetto insieme bagnare i piedi come si suol dire e poi decidere se effettivamente saltare insieme all'interno di questa acqua gelida che chiamiamo startup se purtroppo non avete trovato questo tipo di persone all'interno del vostro percorso un po come succede in amore potete anche impegnarvi attivamente per trovare le persone giuste installare tinder potrebbe essere un modo un po indiretto per avere successo in questa missione quindi magari lasciatelo come seconda alternativa però quello che vi consiglio è di cominciare a partecipare ad eventi che riguardino o il mondo delle startup il mondo dell'imprenditoria in generale oppure forse ancora meglio il mondo del problema che volete affrontare se volete risolvere un problema per gli astronauti allora cominciare a frequentare conferenze legate a quel mondo lì legate al mondo dell'astronomia del punto dell'esplorazione spaziale e essendo membri attivi di queste comunità partecipando riuscirete magari a fare un po di network e incontrare persone interessanti sicuramente ci sono difficoltà per chi di voi non vive in grandi città ci saranno meno eventi però devo dire la verità nonostante ci siano sicuramente tanti eventi di questo tipo anche da remoto penso che la relazione tra co-founder remota sia molto difficile un'azienda una startup da remoto sicuramente può funzionare funziona bene ci sono tanti pro ci sono alcuni contro ma quando si tratta veramente di partire da zero e creare qualcosa penso che vedersi in presenza conoscersi di persona sia importante di nuovo saranno alcuni dei mesi degli anni più difficili della vostra vita sarete demoralizzati in continuazione da quello che gira intorno quello che sta succedendo secondo me c'è bisogno di un contatto forte umano anche che non sia tutti i giorni anche che non sia tutte le settimane almeno averlo all'inizio secondo me è utile poi ognuno ha una storia necessità diverse quindi fate quello che potete per incontrare appunto le persone giuste e magari è meglio lavorare con la persona giusta da remoto piuttosto che non con le persone sbagliate però a 20 metri di distanza in ogni caso appunto riflettete un po su questo e magari pensate anche al fatto che se volete effettivamente fondare in una startup può avere senso provare a spostarsi in luoghi dove c'è una cultura differente rispetto a luoghi in cui vi trovate in cui magari c'è poco fermento da quel punto di vista c'è anche un'altra opzione cioè potete portare avanti la vostra idea del vostro progetto da soli e poi utilizzare la notorietà che otterrete lavorando su questo progetto sia perché magari lancerete il prodotto oppure perché comincerete a documentare il vostro percorso creando questa startup perché comincerete a presentarla ad eventi sfruttare tutte queste occasioni di essere visti da altre persone magari anche nel vostro stesso ambito per incontrare persone nuove queste persone potrebbero diventare prima dipendenti con delle stock option e poi magari essere elevate anche al ruolo da co-founder in base al momento in cui si trova la vostra azienda questa è una cosa abbastanza comune che accade spesso che può fare strano perché tendiamo a considerare co-founder solo chi è lì dall'inizio ma questo non è assolutamente la prassi anzi forse è la prassi ma non è assolutamente l'unico modo quindi riflettete anche in questo senso magari iniziare prima ancora di andare a parlare con investitori per esempio oppure semplicemente in un primo stage di presid da soli non è necessariamente un malus anzi magari vi permette di avere poi più margine di manovra in seguito quindi è un qualcosa che assolutamente non dovrebbe scoraggiarvi dall'iniziare una volta che avete trovato un papabile candidato al ruolo di co-founder o più candidati voglio darvi un paio di consigli di nuovo su base di esperienza personale poi qui parliamo di un argomento che difficilmente diventa oggettivo al 100% vi invito veramente a riflettere sulla scelta a prendere il tempo che vi serve non saltate senza pensarci in una cosa di questo tipo perché è veramente una delle scelte più importanti per il futuro della vostra azienda e anche della vostra vita di conseguenza ok la fare start up è un qualcosa che veramente prende tanto tempo tante energie per anni della vostra vita e queste saranno persone con cui se le cose dovessero andare bene lavorerete per anni di nuovo o con cui se le cose dovessero andare male avrete discussioni molto difficili molto pesanti situazioni tese tense quindi volete essere sicuri di lavorare con persone che in un certo senso vi aiutino a raggiungere la strada che vi porterà al successo ma allo stesso tempo magari anche persone che sapete non saranno tossiche distruttive per voi nel caso in cui le cose non dovessero andare male anche questo secondo me è un elemento importante quindi un primo consiglio che vi do è non chiudete gli occhi su potenziali problemi prendeteli in considerazione da subito e se serve se utile affrontateli affrontateli immediatamente perché nel momento in cui si creerà la prima situazione di stress che prima o poi arriva sempre poi tutti questi attriti magari non discussi possono venire fuori e questo crea problemi veramente non necessari quindi questo è il primo aspetto il secondo si ricollega al non saltare in acqua gelida immediatamente bagnatevi i piedi magari anche prendendo un po della quetta lanciatevela sullo stomaco come fanno i bambini quando entrano in un mare troppo troppo freddo quindi non limitatevi a fare un primo colloquio e dire no questa è la persona più figa del mondo la persona che mi serve devo assolutamente convincerli adesso o se ne andranno da qualche altra parte se non sono disposti a spendere del tempo in questo processo di non direi selezione perché non state selezionando siete due cani che si stanno usando il sedere a vicenda cioè questo di avvicinamento ok questo processo di avvicinamento se non sono disposti a investirci ore del proprio tempo o anche a livello emozionale beh allora forse non sono la persona giusta perché si dovrà fare molto di più in futuro magari stanno semplicemente cercando per un posto di lavoro e avranno una soluzione migliore altrove in quel caso non sarebbero le persone giuste per voi dal principio quindi prendete il vostro tempo incontrateli più volte cercate di costruire una relazione anche al di fuori dell'ufficio perché sicuramente è bene tenere separate la vita privata il lavoro insomma tutte le cose che noi sappiamo ma quando si tratta di persone che fondano un'azienda con voi è molto difficile che la relazione si fermi all'ufficio stesso e a volte anzi questo può essere un brutto segnale questo non vuol dire che dovete vivere con il vostro co-founder e dovete spendere tutto il tempo con lui o con loro a volte si possono creare anche relazioni tossiche in questo senso ma vuol dire che devono essere persone con cui riuscite a stare bene anche nelle classiche situazioni in cui vi andrete a prendere una birra in cui conoscerete ognuno i compagni le compagne dell'altro insomma sono situazioni che capitano e devono capitare perché servono un altro punto importante cercate skill complementari quindi evitate persone che fanno le stesse cose che fate voi perché altrimenti sarà molto più facile incorrere nei soliti problemi in cui non si sa chi fa cosa magari ci sono problemi nel organizzare i task poi magari in futuro avrete bisogno di qualcuno che scrive codice mentre nessuno di voi lo fa e quindi andrete a diluire ancora di più le vostre azioni per portare dentro qualcun altro che facciano qualcosa che voi non sapete fare oppure dovrete spendere più di salario insomma lo scenario ideale è quello in cui ci sono due tre co-founder che fanno cose tutte abbastanza diverse tra di loro in base alla necessità dell'azienda e soprattutto è importante altro consiglio che i co-founder siano verticali su pilastri che servono alla startup stessa se io sono una sto lanciando un'azienda business to business con un prodotto che costa decine di migliaia di dollari ed è venduto a aziende fortune 500 molto probabilmente avrò bisogno di un team di sales molto molto efficiente quindi sarà molto più importante per me o molto più di valore per me avere un co-founder che sia sia raw o cso quindi a capo del dipartimento di sales che abbia esperienza in sales che sappia come gestire un team di questo tipo piuttosto che avere un founder che sia esperto in branding per esempio mentre invece se sto lanciando un brand di bibite energetiche ok magari non verrebbe considerato una startup però facciamo finta di bibite energetiche con qualcosa che ha molta rilevanza in ambito branding appunto in cui devo avere una comunicazione figa devo essere giovanile magari allora a quel punto per me sarà importante avere tra i co-founder una figura che possa fare da cmo che possa fare da quello che gestisce tutta la parte di creazione del brand della comunità strategia di comunicazione cercate di capire ok quali sono veramente i ruoli chiave e coprire questi ruoli con i founder più o meno chiaramente è impossibile avere uno spettro che copia il 100 per cento ma quantomeno assumendo dei sottomanager ok dovreste essere in grado di gestire tutto quanto quello che vi serve altro aspetto importante carta canta se avete delle cose degli accordi se avete delle discussioni importanti che volete formalizzare fatelo mettete le cose per iscritto su un contratto perché prima o poi ci saranno dei problemi spero per voi che non ci siano ma è molto molto probabile che ci saranno conflitti che ci saranno problemi che qualcuno vorrà fare qualcosa che a voi non piace quindi avere le cose scritte su carta è infinitamente più di valore rispetto a quello che vi dite da parole alle nove di sere in ufficio quando vi siete fatti tre birre e state ragionando su come strutturare l'azienda non abbiate eccessiva paura nel formalizzare discussioni che appunto abbiano poi potenziali applicazioni in ambito legale e portate avanti queste discussioni con i vostri co-founder in generale siate aperti siate chiari nel voler settare aspettative quindi per esempio quando abbiamo fondato la startup con altri due co-founder una discussione che abbiamo avuto all'inizio è ok tutti quanti noi abbiamo dei lavori full time o comunque abbiamo tanti progetti quando è che cominceremo a lavorarci a lavorare la startup full time dobbiamo metterci una sorta di deadline questo è un consiglio che mi ha dato un amico che è tornato molto molto utile perché perché in quel momento ci siamo detti ok se dovessimo raggiungere 100.000 euro di monthly recurring revenue o se dovessimo ricevere un ultimatum dagli investitori che ci dicono guarda dovete lavorare full time oppure noi non investiamo in questi due casi noi entreremo full time voi potete fare diciamo un ragionamento di questo tipo un accordo di questo tipo questo magari non deve essere per iscritto però un accordo di questo tipo con in base alle necessità che avete voi magari il cto vi servirà solo dopo e quindi lui potrà continuare a fare il suo lavoro per un po più a lungo e poi entrare full time solo dopo in quel caso allora discutete visto che tu non sarai full time come gestiremo il tuo salario non magari non verrai pagato dall'azienda sei d'accordo con questo oppure no cioè sono cose che veramente dovete discutere nel dettaglio perché altrimenti si crea tensione stress inutile in un contesto che è già estremamente stressante cercate di risolvere tutti questi dubbi già dal principio e fate anche domande che vi possono sembrare stupide e ridondanti cercate di chiarire tutte queste dinamiche poi ultimo consiglio non voglio sembrare troppo retorico però considerate di dare piuttosto che ricevere cercate ancora se no stesso discorso alla fine si torna sempre lì cercate di non creare conflitto per cose che magari non servono che non per cui non vale la pena ho visto veramente persone che cercavano in tutti i modi di lottare per avere quello 0,2 per cento in più di azioni per poter dire di essere l'azionista di maggioranza oppure le persone che cercavano di avere diritto di voto sopra gli altri co-founder ci sono delle situazioni in cui ha senso ma di norma se siete tre co-founder due co-founder che sono lì dall'inizio tutti quanti mettono lo stesso impegno lo stesso valore allora queste cose secondo me si potrebbero evitare sarebbero da evitare se avete paura che gli altri non mettano lo stesso impegno non abbiano non diano lo stesso valore ma comunque l'idea è quella di dividere le azioni in maniera similare allora state facendo questa partnership con le persone sbagliate dovete cercare qualcuno con cui vi sentiate diciamo alla pari ok e con cui non abbiate rimorso questo rimorso nel dividere azioni per esempio o nel persone di cui avete stima ok se voi avete stima della persona con cui state fondando la startup pensate che sia una buona giunta al vostro team allora non dovrebbe costarvi questa idea di metterli alla pari oppure c'è un problema con voi e con la vostra mania di controllo dovete imparare anche un po a fare un passo indietro ok si 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 torna a questo punto qui secondo me è molto più ci sono dei problemi in in startup per cui tutti e tre co-founder tutti e due co-founder sono troppo accondiscendenti ok magari oppure non si dicono cose in faccia cercando di evitare il conflitto troppo e questo è anche un problema che va affrontato ma secondo me è molto più comune il problema per cui ci sono troppe teste di legno che cerchiamo di scontrarsi avere ragione l'una sull'altra se voi riuscite a essere la figura di pacere la figura di che tranquillizza tutti che mette la calma allora secondo me avrete un tasso più alto di successo questo non vuol dire compromettere i vostri valori compromettere le vostre idee compromettere la dedizione al lavoro se c'è qualcuno che non sta lavorando dovete dirglielo dovete essere trasparenti questo fa parte in realtà di questo di tutto questo discorso che abbiamo fatto fino adesso del dell'essere aperti dell'essere onesti dell'essere trasparenti però cercare di farlo in maniera costruttiva non in maniera distruttiva non in maniera egoista nel senso di volerlo fare per mettervi il risalto o più in alto rispetto agli altri non c'è bisogno di fare queste cose e soprattutto se sentite il bisogno di farlo allora non state lavorando con le persone giuste io spero che questo video vi sia servito vi ricordo che nei commenti vi invito veramente a discutere di questo tema lasciare i vostri consigli io cercherò anche di mettere su qualcosa sul mio sito oppure da qualche altra parte una serie di risorse di eventi dove magari trovare dei co-founder quindi se avete idee se avete consigli da questo punto di vista fatemi sapere io conosco qualcosina però chiaramente non conosco tutte quante le possibilità tutti quanti gli eventi soprattutto in italia che ci sono per questi temi quindi se li lasciate nei commenti poi io sarò felicissimo di dare un'occhiata e eventualmente aggiungerle a questa lista che poi verrà creata eventualmente aggiunta in descrizione io come al solito vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a qui vi ricordo le solite cose da youtube e noi come al solito ci vediamo alla prossima ciao ciao